Buongiorno a Milano da Palazzo Marino. È caduto lo stop ai lavori pubblici e per cui con estrema prudenza riapriremo alcuni cantieri. A partire dall'M4, però, gli operai che ci lavoreranno dovranno essere effettivamente in totale sicurezza, verrà loro misurata la febbre a inizio turno, avranno adeguati dispositivi di protezione personale, mascherine, guanti eccetera, e saranno tenuti a distanza l'uno dall'altro. Alcuni di voi mi scrivono ma visto che c'è poco traffico perché non riapri anche dei cantieri staldali? Troveremo le giuste formule, però ovviamente lo diciamo tutti noi ogni giorno, prima di tutto la salute e anche la salute ovviamente di chi lavora. Veniamo a quello che troppo, tristemente, è il tema del giorno e cioè cosa è successo al Pio Albergo Tribuzio. In realtà dovremmo parlare di cosa è successo nelle residenze per anziani in tutta la nostra regione. Ma tornando al Pio Albergo Tribuzio, la regione ha deciso di avviare una commissione di verifica, mi ha chiesto di nominare un rappresentante e la nostra scelta è caduta su Gerardo Colombo che ringrazio per la disponibilità. Il dottor Colombo è persona di grandissima esperienza e di grande indipendenza, cosa assolutamente importante oggi. Per cui collaboriamo con la regione, è necessario fare luce sulla situazione. Permettetemi però di ripartire anche da un concetto fondamentale. Però sia chiaro che la sanità è di responsabilità della regione perché se facciamo confusione su questo punto, allora è chiaro che mettiamo i cittadini non in condizioni di capire. Sul tema specifico, leggo per evitare di usare parole sbagliate, il Pio Albergo Tribuzio è un'azienda di servizio alla persona, la cosiddetta ASP, e l'ente competente al suo controllo è l'ATS, adesso per intenderci, l'ex ASL, scusate tutte queste sigle ma così ci capiamo. Lo dice nella regge del giornale 1-2013 che sottolinea la competenza per la vigilanza e controllo con riferimento alla qualità e alla proprietà delle prestazioni. Quindi su questi principi e sapendo chi è responsabile di cosa però si collabora per capire non tanto e solo quello che è successo ma anche per mettere a punto un sistema che dovrà continuare a lavorare in settimane e mesi assolutamente critici. E infine, ne ho parlato col prefetto, ve l'ho già detto nei giorni scorsi, ma stiamo già rafforzando e rafforzeremo il controllo sulle strade tramite pattuglie e blocchi di polizia locale, quindi milanese, polizia stradale e carabinieri. Li vedrete in giro per le nostre strade in questi giorni e soprattutto nel, chiamarlo weekend di Pasqua, fa un po' ridere, ma nel weekend di Pasqua, quindi nei giorni in cui può avvenire più la tentazione di andarsene in giro. Buona giornata a tutti voi.